Compra, compra, compra solo per oggi ma anche domani Nuovo Predator Hacer a 9999 euro Solo per te, compralo e diventerai un grandissimo esperto di Fortnite Ah, fammi scrivere la lettera a Babbo Natale Speriamo Caro Babbo Natale Scrive così, sì Sono Johnny Vorrei chiederti il regalo per Natale Sono stato bravo tutto l'anno Non ho fatto arrabbiare i miei genitori Ho fatto sempre i compiti E vorrei chiederti se per Natale mi regalassi ardentemente il nuovo Predator Ti ringrazio Babbo Natale Quando passi per il camino Attento al fuoco Ti lascio i biscotti e latte sul tavolino Ciao Avanti Ciao Babbo Natale Ciao Elfo Scurregione, dimmi pure Le ho portato una piccola letterina di un bambino che vuole un regalo Ah, vediamo un po', 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 allora che cosa vuole questo piccolo bambino da noi? Ho 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 caro babbo natale chi cazzo è babbo? che ne so ha mancato una B è ignorantero questo bambino aggiungi un sacco di carbone per favore no siamo buoni quindi c'è scritto poi desidero ardentemente il nuovo predator che è uscito oggi è proprio un nuovo nuovo della acera ma insomma vuole un regalo bello costoso hai capito su di quale predator sto parlando si ho capito quello nuovo che è uscito quello bello quello bello vabbè oggi mi sento molto buono mi dimmi vado subito a prepararlo allora bravo vai a prepararlo oggi mi sento buono anche se è un regalo costoso lui è stato bravo e via portaglielo ok vado subito mi sa che ne ho più uno pure per me sa ah è natale speriamo che babbo natale mi ha portato il regalo il nuovo predator oh ho questo è un regalo enorme è sicuramente un regalo che ho chiesto a babbo natale sì e vai vai ora lo apro ciao johnny buon natale se non condividi verrà a cercare anche te buon natale ciao